Buonasera da Marco Capulli con informazioni di Arezzo TV, cominciamo subito con un incidente che è avvenuto quest'oggi nel pomeriggio nei boschi della Val Tiberina, i soccorritori del 118 dell'asle toscana sud-est sono intervenuti poco prima delle 16 per prestare soccorso ad un 57enne caduto nel bosco in località Moscheto nel comune di Sansepolcro. L'uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo con l'elicottero Drago della Compagnia dei Vigili del Fuoco di Arezzo in codice giallo o codice 2 sul posto un'ambulanza infermierizzata della misericordia di Sansepolcro. Un duro colpo allo spaccio di stupefacenza è stato inferto dalla squadra mobile di Arezzo che ha arrestato un uomo trovato in possesso di oltre 300 dosi di cocaina. Operazione antidroga siglata dalla squadra mobile della questura di Arezzo sono state sequestrate 300 dosi di cocaina e arrestato un uomo. L'attenzione si era concentrata su di lui, residente all'estero ma domiciliato alla Terina nell'Aretino, raggiungeva quotidianamente la città di Arezzo dove, secondo gli inquirenti, spacciava la cocaina a bordo di un'auto presa a noleggio. A tarda sera, prima di tornare a casa, effettuava delle soste in una zona boschiva nelle adiacenze dell'abitazione. Qui è stato notato dagli agenti mentre scavava in determinati punti sotterrando ed estraendo alcuni involucri. Durante il blitz la polizia ha scoperto che nel boschetto l'uomo nascondeva la droga per evitare il ritrovamento in casa in caso di perquisizioni domiciliari. Lo spacciatore è stato quindi fermato nel momento in cui cedeva due dosi di cocaina e sottoposto a perquisizione personale con sé. Ne aveva altre 25. Gli agenti hanno perquisito l'area boschiva e qui hanno trovato tre involucri di vetro contenenti 300 dosi di cocaina e due bilancini di precisione. Per l'uomo si sono spalancate le porte della casa circondariale di Arezzo. Migliorano le condizioni di Lara, la mamma di Chesia, la quindicenne morta nel terribile incidente avvenuto sull'autostrada del Sole, quindi nella 1, nel tratto compreso tra Fabro e Chiusi, mercoledì scorso 22 giugno. L'auto sulla quale viaggiavano era stata tamponata da un mezzo pesante, la quindicenne era seduta sul sedile posteriore, l'impatto non le aveva lasciato scampo. Anche la mamma era rimasta seriamente ferita, adesso non sarebbe più in pericolo di vita. Le indagini sulla dinamica dell'incidente condotte dalla polizia stradale di Orvieto intanto vanno avanti. Prosegue la protesta dei lavoratori della FIMER, azienda di Terra Nuova Bracciolini, occupata giorno e notte ormai dallo scorso primo di giugno ieri sera a prendere nuovamente posizione i sindacati FIM, CISL, FIOM, CGL e UILM, UIL. Un'altra assemblea, un altro giorno di occupazione alla FIMER di Terra Nuova Bracciolini dopo la notizia nelle scorse ore che l'azienda ha presentato nuovamente richiesta di concordato, questa volta al Tribunale di Milano dove si è spostata la questione giuridica, i sindacati hanno preso posizione. Alcuni di quegli investitori che loro hanno messo a supporto del nuovo concordato sono degli investitori con cui noi abbiamo interloquito e che smentiscono di aver avuto delle interlocuzioni nell'ultimo periodo con gli azionisti e con l'attuale consiglio di amministrazione. Quindi questo è il primo fatto concreto. L'altro fatto concreto, supportato anche da fatti, qualora qualcuno ce lo dovesse chiedere, è che oggi la cassa ha una disponibilità ridotta, non soltanto perché è stata gestita male le risorse a disposizione, ma anche perché alcune di queste risorse vengono utilizzate per pagare consulenti esterni, ruoli e professionalità che non danno nessun tipo di valore aggiunto alla risoluzione di questa vertenza e che appunto non esprimono niente se non quello di voler ulteriormente speculare su un'azienda che avrebbe tutte le potenzialità per poter ripartire. Anche questo è un altro fatto concreto. Intanto si attende che il Tribunale Lombardo fissi l'udienza per la decisione sullo stato d'insolvenza. A detta della nuova proposta che è stata presentata e le premesse che sono a valle del nuovo concordato già sì, in maniera preventiva, l'azienda tutela dicendo e sostenendo che forse non è più neanche il Tribunale di Milano competente a doversi pronunciare sullo stato d'insolvenza ma addirittura al Tribunale di Monza. Quello che noi speriamo è che indipendentemente da quelli che sono gli stratagemmi che per l'ennesima volta stanno mettendo in piedi gli azionisti, il Tribunale di Milano si assuma la responsabilità di sancire quello che è l'esito di questa vertenza, anche se è quello di andare nella direzione di un'amministrazione straordinaria. Anche ad Arezzo la Guardia di Finanza ha celebrato il 249esimo anniversario di fondazione, un giorno di festa ma anche di bilanci. Sentiamo. Il 249esimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, una festa alla presenza del prefetto ma anche di altre autorità civili e militari. Una cerimonia commovente, momento per i saluti, per i militari che lasciano la sede di Arezzo, per altre sedie, per i riconoscimenti di chi si è distinto in questo anno nelle operazioni. Si parla di lavorare con e per il territorio. Questa oggi vuole essere la Guardia di Finanza per Arezzo e per la sua provincia. Sono 249 anni di vita del corpo che lo festeggiamo, questo evento, insieme a tutte le autorità cittadine. Sono presenti il prefetto e tutte le principali autorità. Questo è anche il momento per fare un bilancio. Guardia di Finanza che è impegnata sia nel settore della tutela delle entrate, sia nel settore della tutela della spesa pubblica, che nella lotta al contrasto dei traffici illeciti, posti in essere dalla criminalità economica e dalla criminalità organizzata. Un focus sul reddito di cittadinanza. Come va? Anche quest'anno abbiamo un bilancio altamente positivo, ahimè sotto il profilo degli esiti dei controlli. Circa un milione di euro di redditi indebitamente percepiti, in gran parte indebitamente percepiti, per la verità, e in parte non ancora richiesti ma non ancora erogati. E lì siamo intervenuti in tempo per anticipare i percettori disonesti. L'ultima domanda poi la lascio alla festa, come giustamente deve essere. Uno sguardo sulle zone calde della città. Beh, diciamo che questo è un tema che affrontiamo molto spesso in sinergia con le altre forze di polizia, in seno al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il prefetto è il nostro punto di riferimento, con lui coordiniamo tutte le attività che servono a presidiare tutte le situazioni un po' a rischio. Non parlerei di particolare allarme sociale. La situazione direi che è sotto controllo. Torno alla campagna per la prevenzione delle truffe agli anziani. Temi, piaci, poco. Ideata e organizzata dallo staff di comunicazione del Comune di Arezzo e dalla Polizia Municipale, realizzata con il finanziamento del Ministero dell'Interno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Fondo Unico Giustizia, regolata da un protocollo d'intesa fra Comune e Prefettura. Operatori del Comune e della Polizia Municipale saranno presenti con un gazebo all'interno del mercato settimanale di Piazza Giotto e davanti all'ingresso del Parco Pertini a consegnare materiale informativo per consigliare una serie di buone pratiche utili a riconoscere i raggiri ed imbrogli più frequenti. L'esordio di oggi, il gazebo, te, mi piaci, poco, verrà replicato ogni sabato fino al prossimo dicembre. Questa mattina il gazebo è stato inaugurato alla presenza del Prefetto Maddalena De Luca, del Vice Sindaco Lucia Tanti, del Questore Maria Luisa Di Lorenzo, del Comandante dei Carabinieri Claudio Rubertà, del Comandante della Guardia di Finanza Adriano Lovito, del Comandante della Polizia Municipale Aldo Poponcini. Al Centro Chirurgico Toscano un workshop dal titolo La Chirurgia d'elezione nel paziente anziano. Vediamo. Sappiamo che oggi è un mondo in cui sempre più ci troviamo a dover gestire questi pazienti anziani con problemi assolutamente particolari. Dobbiamo avere delle competenze specifiche, dobbiamo creare dei piani di assistenza che siano personalizzati quanto più possibile e questo possiamo riuscire a farlo attraverso anche discussioni come quelle che portiamo avanti stamattina. L'invecchiamento della società occidentale è stato lo spunto di partenza del workshop dal titolo La Chirurgia di elezione nel paziente anziano al Centro Chirurgico Toscano di Arezzo. Una giornata scientifica per affrontare tutte le problematiche tipiche della gestione di un paziente in età avanzata, mettendo assieme medici internisti, anestesisti e chirurghi per dare così una panoramica il più ampia e completa possibile dell'argomento trattato. Perché solo mettendo insieme l'internista, il geriatra, il chirurgo, l'anestesista, solo trovando appunto questi spazi di discussione possiamo individuare poi degli obiettivi precisi, e possiamo dare le risposte migliori a questi nostri pazienti così complessi e così fragili. Il ruolo dell'internista appunto è quello di cogestire, non soltanto in termini di consulenza, ma in termini di stretta collaborazione, di cogestire questi pazienti che saranno affidati al chirurgo, ma che dovranno essere appunto valutati e gestiti nel tutto il percorso dal punto di vista medico in relazione appunto alla spesso coesistenza di queste patologie che riguardano l'aspetto internistico. Tanti medici presenti e anche un architetto, perché? Perché siamo convinti che l'architettura sia uno strumento di cura, cioè che creare attorno al paziente una situazione, un ambiente che in un modo o nell'altro non sia solo dedicato al benessere e quindi a quelli che sono gli aspetti più tecnici dell'ambiente, quindi il controllo della temperatura, dell'umidità eccetera eccetera, ma un ambiente che lo faccia sentire a casa e quindi la possibilità di trovarsi in un ambiente che non è indifferente a quelle che sono le tue esigenze, a quelli che sono i tuoi problemi, le tue problematiche. Te può servire a creare un miglioramento della cura fornendo questo tipo di contributo all'esperienza del paziente all'interno di un centro di cura. Al via d'Arezzo, l'undicesima edizione del Passioni Festival, Marco Meacci, ideatore della manifestazione, ha presentato il programma insieme a Pupo, ospiti di quest'anno, Paolo Endel, Sabina Guzzanti, Luca Sommi, Marco Maisano, Saverio Tommasi e ovviamente Pupo. In questa edizione il Passioni Festival celebra due giganti della cultura italiana, cento anni dalla loro nascita, il primo è Don Lorenzo Milani, al quale saranno dedicati due eventi speciali all'interno del festival, il secondo è Italo Calvino che verrà celebrato e ricordato con alcuni spettacoli all'interno della Kermess. Oggi in programma, visita a Barbiana, organizzata insieme alle Acli di Arezzo, in collaborazione con la Fondazione Don Lorenzo Milani, nel luogo dove dal 1954 al 1967 Don Milani avviò e animò la sua innovativa scuola. Una giornata speciale completamente dedicata alla sua figura e alla sua influenza nella cultura italiana. Presentato questo pomeriggio un poliziotto di nome, Lele, il libro dedicato alla memoria del sovrintendente, capo della Polizia di Stato Emanuele Petri, medaglia d'oro al valore civile, vittima del terrorismo messo in atto dalle nuove BR. Greta Settimelli. Beh, diciamo che la conclusione di un percorso non a caso nel ventennale è uscito, quindi per noi è un ulteriore motivo di orgoglio che conclude praticamente un tempo, diciamo, e non ci può fare altro che piacere, assolutamente. A parlare Alma Petri, vedova di Emanuele Petri, sovrintendente della Polfer, era ucciso il 2 marzo 2003 in un conflitto a fuoco con due esponenti delle nuove BR a bordo del treno Roma-Firenze, all'altezza della stazione di Castiglione Fiorentino, oggi ad Arezzo, presso la Casa Museo di Ivan Bruschi, nell'ambito del Festival La Città dei Lettori, la presentazione del libro Un poliziotto di nome Lele. Il volume, edito dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, contiene il romanzo Le ferite di marzo della scrittrice perugina Cinzia Corneli. È in questa parte dove viene fuori l'altruismo di Emanuele, ci racconta la vedova Alma. Aveva fatto amicizia con un giovane carabiniere colpito da un encefalo mielite, rimasto paralizzato. Emanuele era diventato il suo angelo custode. Quel giorno non doveva nemmeno essere in servizio, avrebbe dovuto accompagnare questo amico alla seduta di fisioterapia, poi sappiamo com'è andata. Il tratto più bello è l'amicizia che intercorre fra questo poliziotto e questo carabiniere che in quel momento era in difficoltà e non si ferma davanti a una divisa che è diversa dall'altra, ma è un'amicizia che viene dal cuore. Alla presentazione, oltre a tutte le autorità retine, a cominciare dal prefetto Maddalena De Luca, anche il dirigente della Polfer di Firenze, Marco Dalpiazza, all'epoca dei fatti, dirigente della squadra mobile di Arezzo, partecipò dunque attivamente all'arresto della terrorista Nadia Desdemona Lioce che viaggiava su quel treno assieme a Mario Galesi, l'altro terrorista morto in ospedale per le ferite riportate nel conflitto a fuoco. La memoria che è in tutti noi, in tutti coloro che parteciperanno e che leggeranno il libro, perché Emanuele Petri, Lele, così come racconta il libro, ha dato la sua vita per la democrazia, quindi non bisogna dimenticare, non dobbiamo dimenticare e sarà naturalmente da esempio per le nuove generazioni, ci terrei veramente tanto. Nel libro una testimonianza anche dell'ispettore Ugo Bonelli, della questura di Arezzo. Lele era un amico, un padre e un marito, una persona squisita, speciale, veramente un amico in tutto e per tutto. Lele Poliziotto era il poliziotto che ti dava sicurezza e che ti dava tranquillità. Era una montagna d'uomo e quindi era una sicurezza averlo vicino, non solo per la sua imponenza fisica, ma per la sua esperienza illimitata in materia di sicurezza e di attività di polizia di tutti i giorni. Si aspetta oggi all'età di 83 anni, Clara Paggini, la signora della Casa del Disco, noto storico esercizio di piazza Guido Monaco che tutti gli aretini conoscevano bene. Punto di riferimento per l'acquisto di dischi in vinile, CD, musica, sette, di ogni genere musicale che ha accompagnato generazioni alla passione per la musica. Clara Paggini ha saputo condividere il proprio amore per la musica con molteplici generazioni che l'hanno conosciuta fino al termine di questa attività alla quale Aderezzo è sopravvissuto soltanto ieri in Corso Italia. Intanto parliamo di un altro evento, quello che riguarda Signorelli a Cortona, taglio del nastro della mostra Signorelli 500. Sentiamo. Sono veramente fiero del fatto che qui abbiamo 28 opere di Luca Signorelli tutte insieme in questi due ambienti, cioè una piccola mostra ma ricca di oggetti che sono tra di loro molto vicine. E io direi un Signorelli puro. Non abbiamo inserito altri artisti, non abbiamo inserito un apprendistato, i suoi allievi, non abbiamo messo neanche i suoi disegni. E' proprio lui come artista, come dipintore. Cortona accende i riflettori sull'opera del suo più illustre cittadino scomparso nel 1523, cinque secoli fa. E' stata inaugurata la mostra Signorelli 500, maestro Luca da Cortona, pittore di luce e poesia. Luca Signorelli è l'artista cortonese del Rinascimento, conosciuto in tutto il mondo, che ha reso grande Cortona in tutto il mondo. Questa è la più grande mostra che è stata organizzata negli ultimi tempi a Cortona. Quindi un investimento molto importante con una grande rete, una grande squadra, per rendere omaggio al grande artista cortonese Luca Signorelli. Circa 30 le opere provenienti da musei italiani e stranieri e da prestiti da collezioni private dell'artista del Rinascimento in esposizione, nella mostra curata da Tom Henry, il maggior studioso internazionale del pittore. Racchiude delle opere mirabili anche al di sopra delle nostre aspettative e soprattutto riesce a collocare Signorelli nella posizione che merita, cioè come uno dei più grandi artisti del Rinascimento. Lo ricordiamo, ha ispirato Michelangelo, Raffaello, nel corso della sua vita e anche successivamente e questo deve renderci orgogliosi. Si tratta della più importante ed ampia esposizione mai dedicata al grandissimo artista di cui si celebrano i 500 anni dalla morte. Ci sono pochi gli artisti del 400 di cui si parla dell'invenzione per Vasari. Solo Filippino Lippi e Signorelli per il 400 hanno avuto questa mentalità, questo approccio. Per me questa è la sua innovazione più concreta perché dà la luce agli altri che seguono di come si può approcciare i soggetti in un modo insolito. Parlando di tre opere e mostre, io direi l'annunciazione, la crocefissione analena e la palla di martelica che per la prima volta abbiamo portato insieme i sei pezzi rimanenti per esporli insieme. È tipo un puzzle, un po' studiare come uno va accanto all'altro. L'allestimento si trova nelle sale del Museo dell'Accademia Etrusca e della città di Cortona per proseguire in un percorso che comprende il Museo Diocesano, il Palazzone, le chiese di San Nicolò e San Domenico, poi gli itinerari turistici alla scoperta dell'autore grazie al protocollo d'intesa con le città signorelliane. Voglio superare 83.002, questa è una cifra che ce l'ho in mente, a quel punto noi saremmo il più visitato, mostro, signorelli mai successo. Si svolta ieri sera la tradizionale camminata di San Giovanni notturna da Badicorte alla piccola frazione di San Giovanni dei Mori e ritorno nel territorio di Marciano della Chiana, una passeggiata che rievoca tradizioni che gli antichi ritenevano magiche come la preparazione dell'acqua di San Giovanni con erbe e fiori di campo, considerata capaci di poteri traumaturgici e propiziatori, una tradizione legata all'acqua nella ricorrenza della nascita di San Giovanni Battista il 24 di giugno in corrispondenza dei giorni del sostizio d'estate. E allo spazio seme a D'Arezzo lo spettacolo The Fabulous Journey della Compagnia Tetrale, Maner Manus. Siamo andati a vedere. Oh, ma lui è bello, alto, questi cavei che sembra proprio un cavaliere d'Arezzo, mi apro. La Compagnia Tetrale e Maner Manus presenta The Fabulous Journey, spettacolo di commedia dell'arte maschere allo spazio seme di Arezzo. Questa fulgica traditura non mi vuole lasciare posare. Parla dell'umanità, dei tipi, dei caratteri umani, sono caratteri universali che ritroviamo addirittura in tutte le culture e per questo che la commedia dell'arte è ancora così viva e il pubblico partecipa con tanta passione, perché ci si ritrova in queste maschere. È la nostra storia, è sempre la nostra storia che si ripete. Lo spettacolo racconta la storia e le avventure dei commedianti Isabella Canali e Francesco Andreini, capocomici della Compagnia dei Gelosi che portarono il teatro sino alla corte del Re Sole. Lo spettacolo è stato presentato in doppia lingua italiano ed inglese. Francesco, mi riesco a giocare. La cosa interessante e affascinante della commedia è che ha un'origine così forte, ha dei fondamenti così forti che può essere ritrasmessa, può diventare moderna. Noi anche lavoriamo in commedia, certo non come si faceva 500 anni fa, è un'evoluzione, ma è un'evoluzione che parte da radici molto molto forti. Sarà lo spazio semi, infine, quest'estate, ad ospitare un programma internazionale. Questo è il primo dell'estate. Si tratta di una residenza artistica di una settimana dove sono presenti attori che vengono dall'Egitto, dal Libano, dal Canada, dal Nord Europa. Paradossalmente per l'Italia è qualcosa che molto spesso non si considera ma è molto amata e riconosciuta in tutto il mondo. Quindi ci sono sempre più stranieri che vogliono venire in Italia proprio a studiare la commedia dell'arte. E una cosa sono sicuro, pagheranno il conto. Moni! Non moni, 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 moni! E passiamo allo sport con il calcio. È cominciata la campagna abbonamenti per la stagione 2023-2024 per il prossimo campionato dell'Arezzo in Serie C. L'amministratore delegato Sabatino Selvaggio ha esortato i tifosi ad una massiccia adesione. È stata pensata per venire incontro ai tifosi. C'è la prelazione per i vecchi abbonati. L'aumento dei prezzi è appena del 20%, molto contenuto. Negli ultimi mesi abbiamo avuto tanti ragazzi giovani allo stadio e il nostro obiettivo è di facilitarne la presenza a fianco della squadra. L'obiettivo è arrivare a 1.500 tessere al comunale. Stiamo mettendo in atto alcuni interventi di restyling che riguardano la tribuna e anche le panchine in campo. E passando invece al taekwondo, Andrea Conti di Monte San Savino della NR Gym Arezzo ha conquistato la medaglia di bronzo agli European Games. Andrea del team degli Azzurri è stato seguito come coach dall'Oro Olimpico Carlo Morfetta. I complimenti sono arrivati anche dal comune della Val di Chiana. Andrea ha rappresentato l'Italia e Monte San Savino. Un risultato straordinario. Figlio di talento e passione, lavoro e determinazione. Complimenti ad Andrea. Esempio e orgoglio. Savinese. E con questa notizia terminiamo la nostra cronaca a retina. Il nostro appuntamento con le informazioni nelle prossime edizioni. Buona serata.